ciao a tutti i video amatori e i video matrici di senza fissa dimora benvenuti in questo nuovo video ve lo faccio un po urgente perché la situazione è un po crollata sotto le mani del governo francese è una gran buona notizia per noi che tifiamo per il ritorno alla normalità e per l'instaurazione di una normalità vera non di una falsa normalità e è notizia di ieri la prima notizia di ieri che ha un po scombussolato è già arrivato lunedì nella serata però ieri è stata affermata che ha un po scombussolati i piani del governo francese che infatti voleva per chi non lo sapesse trasformare quello che in francia si chiama passa sanità cioè il green pass per dirla l'italiana voleva trasformarlo in pass vaccinale questo implicava che tutti i posti dove era richiesto è richiesto il pass per entrare prima ottenibile anche tramite un tampone un test pcr dopo questa possibilità non c'era più era trasformato in pass vaccinale quindi o vaccinati o guariti basta quel modello che è stato anche un parte preso dall'austria germania anche se non è esattamente così ovunque però è un quel modello lì e appunto questo progetto di legge che è stato già discusso dichiarato a fine dicembre il governo ha richiamato tutti i deputati perché la situazione sanitaria è in degrado facendo il solito allarmismo semplicemente per proporre facili soluzioni e per fare finta che esista una fretta che esiste uno stress che non esiste perché nella verità abbiamo sì record di casi sempre questi famigerati casi che arrivano a cifre tipo 250 mila al giorno però non c'è nessun corrispettivo negli ospedali infatti se esaminiamo gli ospedali a parte che ci sono quasi 35 per cento dei letti meno rispetto all'anno scorso aperti nello stesso periodo i motivi sono che i letti in francia continuano a essere chiusi per le politiche appunto economiche che scegliono la chiusura dei letti sia normali che quelli di reanimazione in più c'è anche una carenza di personale che ha fatto sì che vengono chiusi molti letti e in più c'è anche una carenza di persone perché tutta l'instaurazione di questo pass anche per entrare nell'ospedale in francia ha fatto tenere lontano una grande massa di gente che chiaramente non vuole sottostare a questa follia collettiva rivenga al punto il pass doveva essere discusso oggi per partire in prima data era il 5 gennaio poi il governo si è accorto che non ci avrebbe mai fatta e quindi ha fatto il 15 gennaio e la discussione doveva esserci ieri appena arrivato questo testo in parlamento c'è stata una parte consistente del parlamento che ha totalmente impedito la discussione facendo ben capire che non voterà mai e facendo ben capire insomma che così com'è non passa il pass non passa e il governo francese nella nota ha dichiarato beh lo riproporremo domani domani saranno obbligati a farlo perché solita ti ritera la situazione è alla catastrofe moriremo tutti questo mai stato così tanto ma è stato così ma è stato cos'è ma oggi è arrivata in parlamento si è riaperta la discussione si è riaperta riaperta con gli stessi toni del giorno prima e quindi sospesa ancora un'altra volta e rinviata a data da definirsi definirsi chiaramente si parla di pochi giorni chiaramente è una notizia che va presa così oggi com'è però c'è un rimbalzo di diciamo questa situazione ha fatto sia scossato un po' questo personaggio che è veramente caduto sempre più in basso nell'ultimo anno e mezzo non si riesce a capire perché probabilmente essendo parte lui del cda di qualche grande bitfarma senza che nessuno lo sappia e rivestendo anche la carica di presidente della repubblica queste due queste due cose insieme non vanno o meglio vanno benissimo adesso quindi in questo conflitto di interesse qualcuno l'ha preso per le orecchie macrona oggi ha sparato una delle sue infatti ha detto per la prima volta parole testuali macrona a televisione francese che è tradotto in italiano ha usato un termine estremamente volgare che tradotto in italiano vuol dire vado a mettere nella cacca uso questo termine ma lui ha usato uno peggiore tutti i non forati allora chiaramente gli articoli giornali che parlano di questo non cercano di contestualizzare si arrampicano negli specchi per la solita propaganda per con per appoggiare sempre questo governo anche quando è inappoggiabile questo succede già due due anni che non c'è certo da meravigliarsi adesso se succede anche adesso adesso ancora di più ma ha fatto comunque tuonare un pochettino anche perché macrona è giovane e nel parlamento francese e soprattutto nel senato ci sono tre senatori voglio dire ci sono tante persone che sono tanti anni che sono lì e non sono certi abituati a sentire come presidente della repubblica usi in termine del genere contro i francesi perché questo è punto della situazione vaccina forati o non forati sono francesi e forati non forati lui deve deve al presidente di tutti non può essere presente solo di una parte e questa è una discussione che anche a livello costituzionale fa molto discutere appunto insomma i toni sono cambiati perché questo personaggio alla fine della sua epoca fra pochi mesi scomparirà per sempre mi auguro o se verrà rieletto non so in che modo forse mettendo dall'altra parte persone totalmente inutile totalmente pilotate forse verrà rieletto altrimenti basterebbe anche che ci fosse topolino dall'altra parte per fare leggere topolino in confronto a quest'uomo qua però questo non è assolutamente scontato nella situazione politica ed economica che stiamo vivendo adesso un po dappertutto quindi non mi meraviglierei se fosse rieletto non mi meraviglierei se riuscisse a fare l'obbligo della foratura non mi meraviglierei soprattutto se ci provasse a fare l'obbligo della frattura il fatto che ci riescono è molto dire lo farà lo farà perché questa è una dichiarazione di guerra contro i non forati e quindi l'altra arma che gli è rimasta visto che il pass non passa sarà l'obbligo per tutti probabilmente verrà proposto tra pochi e poco tempo perché il tempo non ce l'hanno e devono sfruttare quest'ultima ennesima finestra di overton creata d'arte perché la variante omicron è una creazione ad arte proprio fatta apposta anche perché non succede niente la gente non ci sono vittime o almeno non ci sono le vittime in corrispettivo con i numeri diciamo è tutto molto blando e tutto al di sotto delle medie annuali e tutto al di sotto delle medie di tutti gli anni è tutto al di sotto della media dell'influenza è tutto al di sotto di tutte le medie ma la propaganda continua mortifera come sempre sempre per sfruttare in qualsiasi occasione qualsiasi metodologia per reprimere ancora di più il senso per mettere sempre di più all'angolo tutti i francesi non solo quelli non forati perché le ultime normative che sono state fatte sembrano fatte per non i frati ma alla fine colpiscono solo i frati perché ci vuole un test lo stesso in alcune occasioni ci vuole una mascherina lo stesso anche se voi andate in un posto dove ci sono solo gente che ha il pass nel caso della trasformazione del pass in pass vaccinale sarebbe comunque sempre sotto le stesse normative quindi questo questa utopia falsa del ritorno alla normalità grazie alla foratura si sta rivelando sempre di più una delle peggiori fake news di tutti i tempi e adesso togli occhi di tutti sempre di più sempre più gente si sveglia sempre più gente si discosta da questa psicopatia collettiva questo per dirvi la situazione di oggi dove naviga questo personaggio di nome macron è veramente alla frutta io credo che sia veramente un uragano dentro un bicchiere d'acqua come si dice in francia e questo personaggio andrà nel dimenticatoio comunque sia che sia rialetto no sarà sempre un inutile personaggio messo lì come ce ne sono stati tanti nella storia di cui nessuno si ricorda nell'augurarci che non il pass non passa neanche le prossime settimane e tanto meno tutti gli altri le altre follie che questo governo vorrebbe infliggere ai cittadini francesi vi auguro a tutti voi un buon anno comunque una buona partenza e non vi preoccupate perché questi personaggi non contano nulla contano solo il tempo che trovano nel riscontro tra di loro se la raccontano tra di loro e che continuino così vi ringrazio spero di essere stato utile in queste nuove buone notizie e niente alla prossima grazie e ciao a tutti